Buongiorno, iniziamo la nostra pagina sport parlando di Perugia. Infatti è iniziato ieri il lavoro per quanto riguarda le amichevoli di Pagliari, che nell'amichevole di ieri a Deruta il Perugia si impone di misura grazie al gol di Pizzolla decisivo, il gol al 32esimo del primo tempo, riposo precauzionale per Mazzeo, Pagani e gli acciaccati a Curzi e Stamilla. Per Pagliari tutto sommato la prestazione di ieri è da considerarsi positiva, in funzione del lavoro atletico che in questi giorni è stato svolto nel ritiro di Pian di Massiano. In chiave mercato il DS Sandro Marcaccio sta continuando a seguire la pista che porta al terzino del Bari Simone Bonomi, operazione che per il Bari può anche essere definita, fondamentale comunque sarà la decisione finale del giocatore. Stesso discorso anche per il possibile acquisto di Luca Lacrimini e del centrocampista Roberto Menassi dal Monza. Oggi intanto giornata di riposo per il Perugia, da domani è prevista la ripresa degli allenamenti. Ricordiamo che il prossimo impegno ufficiale è previsto per mercoledì 5 agosto alle ore 20.30 contro la Nocerina in occasione della Team Cup. Grazie. 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 Grazie.